Ciao a tutti, qui abbiamo il coperchio di una trasmissione a puleggia del piaggio ciossi e simili qua ho preso una chiave a bussola da 10, l'ho poggiata sulla gabbia rulli perché è leggermente più piccolo il diametro della gabbia rulli e quindi può spingere la gabbia rulli ho messo un perno lungo, chiave da 32, bussola da 32 perché va sopra al coperchio poi rondelle varie, spessori varie, adesso andiamo a stringere con la chiave da 13 e vediamo se riusciamo, da una parte teniamo dall'altra stringiamo, vediamo se riusciamo a far uscire questa gabbia rulli adesso vado a svitare il tutto l'ambaradan il gabbia rulli è qua, qua così vedete abbiamo liberato, non guardate qua che era così ma qui era già così prima che me l'aveva venduto anche perché noi qua siamo andati, vedete che era bello largo, dove aveva fatto la presa l'ha fatto presa qua intorno qui è così perché era già così che era lui che ha usato questo e l'abbiamo tolta senza problemi la gabbia rulli quella praticamente